Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video questo non sarà un video come al solito perché è un tutorial sulle redstone completo allora, la redstone in minecraft si trova con questo materiale qui come sotto forma di questo materiale qui che se lo cliccate col tasto destro si illumina la redstone uscirà come questa polverina qui ok, mettendola a terra uscirà così questa redstone può interagire con molte cose che se si rincreativa si trovano quasi tutte nella sezione redstone della modalità creativa o pietra rossa se ce l'avete in italiano allora, vedete? azionando questa leva ho fatto aprire la porta tramite redstone ci sono varie cose che azionano la redstone non solo la leva come ad esempio i pulsanti ecco, vedete? questi due sono pistoni uno appiccicoso e uno no esistono due tipi di pulsanti quello di legno e quello di pietra che differenza c'è tra i pistoni appiccicosi e quelli non appiccicosi? che quelli appiccicosi spostano il blocco e poi se lo ritirano quelli normali spostano solo il blocco poi ci sono il repressor plate quella di legno che seziona mandandoci un oggetto sopra e quella di pietra che ci deve per forza camminare un mob sopra per farla attivare questi qui sono dropper e dispenser aggiunti dalla 1.5 in poi il dropper può droppare frecce e pozioni lanciabili che col dispenser invece spara ecco, come avete visto poi esistono i cavi trappola cavi da trappola che si fanno con una corticella con una string e due tripwire attenzione molti si confondono che quello che dare redson è il cavo quando uno ci passa sopra ma invece no sono i blocchi a cui sono collegati i tripwire adesso ve ne darò una dimostrazione ecco, vedete ci sta sopra l'unica lampada che non si accesa è quella al centro anche le botole le trapdoor possono essere attivate da redson e come i i gate i gate delle fence questi qui sono note block che andando in survival e cliccando col tasto destro in base al blocco che hanno sotto faranno delle note che possono essere modificati premendo il tasto destro anche questi qui possono essere attivati da redson in base al blocco che hanno sotto ad esempio se sotto adesso ci metto della cobleton ho sbagliato ho preso due tipi di ad esempio con legno dovrebbe fare un suono tipo pianoforte ecco sentite un secondo ha il suono già al massimo sono io che non lo sento bene e questo è tutto io per aggiunti dalla 1.6 in poi cioè dalla 1.5 in poi ci si può buttare all'interno degli oggetti vedete come state vedendo che li porterà alla cesta sotto di lui come vedete ci sono tutti qui i miei oggetti ma con un segnale di redson è possibile bloccare questo fenomeno ecco come vedete saltano via e non entrano più nella cesta parlando di cesta ci sono anche delle cesta trappola guardate come vedete la torcia qui la lampada di pietra rossa decende più giocatori guardate guardate non è la stessa cesta più il segnale sarà intenso infatti se guardo solo io in una cesta che deve dare più di due segnale più di il segnale forza più due non ce la farà guardate la lampada non si accende la stessa cosa succede in tre con tre però ci sono questi ci sono dei ripetitori se volete che il segnale arrivi fino alla redson dovunque essa sia esistono dei ripetitori che si possono craftare che ripetono il segnale come dicono il loro nome ecco vedete la lampada si è accesa lo stesso questi ripetitori hanno svariate funzionalità possono servire ad esempio ad accendere la in ritardo o spegnerla in ritardo oppure una di queste funzionalità che hanno giunto nella 1.4 è che mettendo due ripetitori vicini il segnale può essere bloccato come vedete questo questo repeater ha bloccato questo e adesso io andato a tirare la leva non è possibile che il segnale passi ma attenzione il segnale può essere bloccato anche attivo ad esempio guardate io sto spegnendo e accendendo la leva però non si modifica lì questa qui è una torcia di redstone che dà segnale scusate sta finendo la la visibilità notturna infatti è finita me la metto subito effect con lightcraft 16 per 1000 secondi ok fatto il segnale di redstone qualsiasi esso sia a parte alcune eccezioni come la trappola chest e un altro aggeggio simile al ripetitore che vedremo più avanti danno il segnale di 15 quindi questa lampada che si trova a 16 blocchi non verrà attivata ma se invece lo spostiamo un blocco più indietro ecco che si attiva queste torce di pietra rossa è possibile invertirne il segnale mettendole appoggiate da un blocco con dietro della redstone e una leva o comunque un segno un qualcosa che emetta segnale di redstone come vedete adesso è spenta e non vedete la redstone non fa quell'effettino lì e se adesso qui ci metto a fianco una redstone lamp possiamo stare tranquilli che non si accenderà queste sono due speciali pressure plate aggiunte dalla 1.5 in poi esistono quelle ad oro e quelle di ferno che possono essere chiamate quella pesante e quella leggera insieme da quella leggera da da segnale da 1 che ce lo metto sopra 1 a più 5 per dare il segnale di 15 cioè più oggetti praticamente sono come delle bilance più oggetti ci si mettono sopra e più segnale danno ecco ecco vedete è arrivato a 2 il segnale e così via è arrivato a 3 adesso facciamo accendere la la quarta cioè l'ultima ecco fatto si è accendita la lampada per arrivare al massimo ovvero 15 tacchette di di forza di redstone ce ne vogliono più di 57 più di 57 item invece su questa qui ce ne vogliono 2 stack e 30 e 30 circa per arrivare al massimo andando avanti possiamo notare questo questo che sembra uno slab ovvero un blocco tagliato a metà ma in realtà è un rilevato di luce aggiunto nella 1.5 quindi ce l'avrete dalla 1.5 in poi che appunto rileva la luce e dà il segnale quando dal segnale il livello del segnale non dà sempre 15 dà il livello del segnale in base alla posizione del sole e in base all'illuminazione per esempio se io adesso faccio notte time set 1300 cioè 13000 volevo dire ecco vedete che dà meno segnale e la lampada non si accende però per essere per fare un metodo in cui si accenda solo di notte potete usare questo potete usarlo insieme a una torcia su un blocco così da invertirne il segnale quando è giorno e spegnere la luce e viceversa quando è notte adesso arriviamo al blocco di redstone che ha la stessa funzionalità della torcia di redstone che vediamo là l'unica differenza è che il suo segnale non può essere invertito e qui però sorgono alcuni dubbi perché qualcuno dirà che se ci metti una torcia sopra il suo segnale può essere invertito in realtà no perché mettendoci una torcia di pietra rossa sopra è la torcia ad essere spenta e quindi io mettendo della redstone da un altro lato del cubo vedrò che il cubo è ancora attivo quindi la supposizione che si potesse invertire il suo segnale è falsa andando avanti adesso troviamo questi comparatori i comparatori hanno molti utilizzi ma il più comune di solito è usare e comparare quello che c'è nelle ceste ecco osservate che io ho messo un item dentro questa ceste e il segnale di redstone è aumentato di uno gli oggetti funzionano agli oggetti staccabili e non in pratica un oggetto non staccabile lo conta come uno stack e quindi come uno stack di ad esempio di qualche cubo come una stack di frecce una spada o una pala o comunque un qualcosa non staccabile lo considererà come uno stack di qualcosa e quindi perché la ceste non posso impilare 64 spade il comparatore può essere usato anche nella cassa trappola che da notare il suo strano comportamento quando ci apriamo dentro non che quando è affiancata da un comparatore il segnale di redstone non ci sarà affatto invece funziona come una cassa normale se ci mettiamo qualche cosa dentro come ho fatto io adesso il comparatore è da notare che non funziona con l'ender chest dato che ogni giocatore ha la propria ender chest privata il comparatore ormai che hanno inventato la lan non può dire che se c'è un giocatore nei paraggi il suo segnale sarà quello perché se i due giocatori stanno giocando insieme vicini il gioco impazzirebbe e andrebbe in crash quindi hanno deciso di non metterlo proprio dalla 1.6 in poi funzionerà anche il anche l'occhio il il portale dell'end con l'occhio dentro con gli occhi dentro nel comparatore andando avanti troviamo il command block che non si può non si può assolutamente avere nel gioco normalmente ma bisogna avere cheat quindi dovremo fare give nome del player se per qualche strano motivo non sapete come vi chiamate su minecraft o non ve lo ricordate magari non siete premio e avete messo qualche nome a caso basta premere tab e uscirà automaticamente il vostro nome e give boom light craft o comunque il nome del vostro giocatore e 137 e ve ne darà 1 in questo command block ci potete scrivere quello che volete qualsiasi cosa che potete scrivere in chat io nel mio caso ho messo che mi darà velocità 10 quando attivo la leva perché anche questo funziona a redstone se se giocate su un server mi raccomando dovete attivare il command block nelle configurazioni dove ad esempio avete scritto quale era l'IP del server e il seed e cose del genere la redstone passa attraverso attraverso le slab osservate la la lampada si accende e si spegne anche se qui ci sono delle slab e la redstone non passa attraverso i blocchi interi in salita vedete ci sono delle cose adesso da dire molto importanti che in realtà non si potrebbero fare ma le hanno giunte così per dare un tocco di per dire ma come fa a fare questa cosa nelle custom map allora il segnale di redstone può essere dato anche verticalmente ma solo se ma solo a un pistone o a qualcosa che ha bisogno di un solo un solo utilizzo perché se qui ci sarebbe della redstone il pistone non sarebbe attivo allora come fare noi noterete che la leva è spenta fidatevi è spenta come aggiornando questo blocco che in questo caso è una fornace che basta mettere a cuocere vedete si aggiorna e il pistone viene risucchiato stessa cosa se quando smetterà di cuocere il pistone si allungherà perché ho tirato di nuovo la leva ecco vedete questa cosa funziona anche con tutti i blocchi che si aggiornano ma non i blocchi che cambiano infatti non funzionerà con le porte guardate attivo la leva e usando questo comparatore guardate poi spengo uno due e funziona questa cosa funziona anche con i ripetitori attivo la leva uno spengo clicco accendo clicco e così via funziona strano a dirsi ma funziona anche con i blocchi rompendo o piazzando blocchi spengo eccendo e così io adesso l'ho messo a destra a sinistra del pistone per farvi vedere meglio però ad esempio poteva essere messo anche sotto eh però con la redstone è normale poteva essere messo anche sotto guardate l'importante è che sia adiacente al pistone e non davanti perché davanti giustamente non funziona vi farò vedere che non funziona con le porte perché le porte non non sono blocchi che si aggiornano sono blocchi che cambiano posizione le porte si possono mettere sia di così sia orizzontalmente e la porta guardate anche se tiro e apro non succede niente invece se la distruggo la conto come blocco normale questo era tutto quello che c'era sulla redstone è il tutorial più completo che ho fatto finora sul mio canale se vi è piaciuto il video iscrivetevi anche se vi è servito mettete mi piace anzi no non mi servono i mi piace comunque se volete metterli nessuno ve lo vieta prima di concludere il video volevo solo ringraziarvi per i 40 iscritti che ringrazio tantissimo per per essersi iscritti come posso dire cioè passare da 25 iscritti a 40 in una settimana è davvero grandioso quindi il video finisce qui ciao a tutti